Penso che debba essere riaperto a tutta la viabilità e che venga fatto anche velocemente. Convocheremo un tavolo lunedì a Roma, interesseremo tutte le parti interessate, non è solo il mio ministro interessato, chiameremo anche ANAS e cercheremo, come stiamo facendo un po' in tutta Italia, di scrivere delle convenzioni in cui lo Stato interviene a supporto soprattutto delle province che sono ancora esistenti ma sono depauperate dal punto di vista economico per surrogarsi e chiudere dei lavori che sono necessari. Era stato l'ormai ex ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli a dirsi disponibile per risolvere definitivamente il problema di Ponte Buriano nel corso del sopralluogo nell'Aretino a seguito del quale si era subito adoperato per attivare un tavolo di confronto tuttora aperto presso il MIT. Adesso è arrivata da Roma ed in particolar modo da Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle. La bella notizia è che il governo nazionale finanzierà con i fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione il restauro di Ponte Buriano così come la realizzazione di una viabilità alternativa al ponte storico. Nel comunicato, affirma anche dell'onorevole Chiara Gagnarli, portavoce alla Camera, leggiamo che da tempo Ponte Buriano, che rappresenta un importante nodo viario tra la città di Arezzo e il Valdarno, aveva urgente necessità di interventi di recupero altrettanto positiva e la notizia che sarà realizzata una nuova viabilità, destinando così il ponte storico esclusivamente al traffico pedonale ciclabile. Con l'intervento del governo si avrà una rete viaria efficiente, assicurando adeguati livelli di sicurezza e percorribilità. Questa è la dimostrazione, si legge ancora nel comunicato, che il Movimento 5 Stelle sostiene le infrastrutture utili all'Italia e vitali per i territori locali.